È stato il giorno di Renato Schifani all'Assemblea regionale. Il Presidente della Regione Sicilia, nelle dichiarazioni programmatiche, prima di entrare nel merito delle diverse tematiche, ha voluto esprimere una decisa condanna del fenomeno mafioso, dichiarando il massimo rigore nella lotta alla mafia. Prima di dare inizio alle mie dichiarazioni programmatiche, sento il dovere di rivolgere un deferente saluto al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, estremo garante della nuova unità nazionale e delle regole inviolabili della nostra Costituzione. È esordito con queste parole il Governatore Schifani, esprimendo successivamente un pensiero e un ricordo indelebile nei confronti di tutte le vittime della mafia, di cui Giovanni Falcone e Paolo Borsellino costituiscono esempio luminare. Il mio governo combatterà con il massimo rigore ogni tentativo di infiltrazione della mafia nel sistema regionale della spesa pubblica, adottando criteri e comportamenti rigorosi che valgano anche da deterrente. Con questo monito il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha iniziato le dichiarazioni programmatiche all'Assemblea siciliana. La mafia non è di destra o di sinistra, ha continuato, persegue i propri interessi, tentando di infiltrarsi nelle pubbliche amministrazioni per condizionarne a proprio uso i procedimenti che regolano la spesa e i canali di finanziamento. Schifani ha concluso infine ricordando tutti i siciliani caduti nelle missioni internazionali di pace. Altro pensiero va a tutti i nostri corregionali caduti all'estero nelle missioni internazionali di pace, ha terminato. Eroi che si battevano per un ideale supremo, lontani dalla loro terra, ma convinti che la pace tra i popoli non è un valore locale ma universale.